Prima dei visti, c'è una piccola sorpresa che Lele Signori, che si definisce il direttore artistico di questo festival, ha ideato con il nipote Pietro, Nepos Nepotis. Pietro e Lele, li chiamiamo sul palco, li mandiamo su, diamo il tempo ovviamente a York di mettere a posto le cose. Loro sono lo zio e il nipote Pietro e Lele, Pietro è un alunno del Ferrazzi, dell'ex Ferrazzi di Campanella Valstagna, scuola Ferrazzi, dove si è formato come pianista e Lele ovviamente presta la voce. Allora, so che c'è tra noi, è da oggi alle due e mezza, tre, che Maria Antonia è con noi. E allora le volevamo dedicare proprio questa canzone. Andiamo piano, con calma, ma lo diciamo. La canzone è dedicata proprio a Maria Antonia, che continua. Non la vedo, ma la so che c'è, la sento, so che è tra noi. Si sa che, ed è così per tutti, quando abbiamo vissuto con certe persone, le portiamo con noi e non le superiamo mai. Certe cose continuano a camminarci a fianco e si impara semplicemente a tollerare questa vicinanza, anche nell'assenza. E allora Maria Antonia, Lele e Pietro, zio e nipote, dedicano questa canzone, il cui titolo è già in qualche modo significativo, perché è sempre per sempre, come direbbero i puristi. E' una canzone importante, alle tastiere, abbiamo Pietro, la voce è quella di Lele, che conosciamo, Lele e signori. Raccogliamo alcuni pensieri. Calvino, nelle città invisibili, diceva una cosa estremamente importante. Alla fine, ve la dico molto in maniera sintetica, alla fine di questo libro bellissimo che spero davvero voi possiate poi leggere, chi l'ha letto già lo conosce, quindi lo rilegge, da nuovo è una rilettura, chi non lo legge, chi non l'ha letto lo leggerà. Diceva una cosa bellissima, Calvino racconta al Gran Can la storia di queste città che ha attraversato Marco Polo per arrivare al Gran Can. E a un certo punto il Gran Can gli dice per ripidarlo, beh, alla fine sono tutte città nelle quali regna il caos, regna la conclusione, regna il non senso. E sentite cosa dice Marco Polo barra Calvino. Occorre nella vita, occorre nella vita cogliere ciò che inferno non è, ciò che inferno non è e farlo durare. E allora cerchiamo di cogliere ognuno di noi ciò che inferno non è e farlo durare attraverso quella che è la compressione dello spazio fisico, delle molecole che la musica genera. Questo senso di armonia che arriva ai confini dell'anima attraverso una tastiera e una voce dedicato a Maria Antonia, sempre per sempre, Montato Amore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dalla stessa parte mi troverai. Ho visto gente andare, perdersi e tornare. E perdersi ancora e tendere la mano a mani forte. E con le stesse scarpe camminare per diverse strade. E con diverse scarpe sono stata sola. Tu non crederai se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano e mordono. Ma lasciano, lasciano il tempo che trovano. E il tuo amore può nascondersi, confondersi. Ma non poter perdersi mai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai. Pietro Lazzarotto. Un prossimo New Anchor. Grazie.